Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come prima cosa voglio ringraziare tutti gli iscritti. Non pensavo francamente di riuscire a tirare su un canale appetibile e che parlasse del mondo nerd a più o meno 365 gradi. Quindi, la prima cosa che voglio fare è ringraziarvi per la fiducia, tutti quanti. Come vedete non vengono fatti molti video, ma cerco di portarne di variegati, dai videogames più gettonati ai free to play, dall'action figure alle bustine di carte. Insomma, cerco di svariare per raggiungere il cuore di più utenti possibili. Come molti di voi già sapranno, questo è il mio secondo canale. L'altro è stato chiuso un po' per divergenze virtuali con altri youtuber, un po' a causa mia, in quanto il mio era un contenitore assurdo di tutto quanto, dal dissing ai videogiochi, dal collezionismo ai vlog no sense. Insomma, quel canale youtube era una pattumiera che però era arrivata a circa 2000 iscritti. Chiuso quello, ho deciso di tentare di scendere le cose. Ho un canale che parla della moto e di cui ho fatto un paio di vlog in moto. Ho un canale dove semmai caricherò i video di El Palpebra, chi di voi non ricorda quel simpatico scordeggione. E ho un altro canale dove potrei parlare di prodotti high tech, che però è fermo in quanto i video di quel canale rientrano benissimo nella categoria che tratto sulla tana dei nerd. E sì, perché se molti di voi nuovi iscritti mi vedono come un nerd appassionato di videogiochi, action figure e giochini di carte collezionabili, altri invece sanno benissimo che non è del tutto così. Ne ho già parlato in altri video. Sono stato per due anni motociclista di un club Support 81 a Roma. Cerco di farmi comprendere meglio per i neofiti. Il club si chiamava Rudas Roma e saluto tutti i miei ex fratelli ricordando a ognuno di loro il rispetto e la realtà che ci hanno sempre uniti. Ed era un club che doveva la sua esistenza grazie agli Hells Angels Roma. Un club di cui eravamo supporter. Sarebbe lunga da spiegarvela. Tuttavia è così riassumibile. Ci sono due fazioni di club. I club FMI, che pagano l'iscrizione annuale alla federazione motociclistica italiana. E i club Support, che non pagano nulla ma devono rispettare delle regole di comportamento dettate dal motociclet club, di cui sono Support, e che li aiuta a nascere e crescere come club. No, no, non fate quella faccia strana. La realtà è ben diversa da ciò che vedete in tv o che avete visto in Sonso Farnachy. Due anni in quel mondo mi hanno insegnato che alla base di tutto ci sono rispetto, realtà, fratellanza ed edizione. Anche se non sempre è così. Anche in quell'ambiente esistono persone che non sono in grado di rispettare quegli standard, ma spesso non fanno molta strada e vengono allontanati già dai primi mesi. La domanda è, perché a suo tempo ho scelto quel percorso? Uno come me che è sempre stato appassionato di cose nerd, videogiochi, fumetti e collezionismo. No, semplicemente ero affascinato dal mondo biker. Per molti di voi, vedere un gruppo di motociclisti girare tutti insieme con lo stesso stemma cucito sul gilet, cosa significa? Alcuni li vedono come mototreppisti, altri come criminali, alcuni come persone da rispettare e ammirare. L'idea di essere in un gruppo, tutti uniti, fratelli, persone a cui dimostrare di essere degni di fiducia e a loro volta dimostrare di essere degni della tua. In quel mondo puoi dare le chiavi della macchina, della moto, persino di casa ad un fratello e sapere che tratterà tutto come se fosse roba sua. Alla base di tutto c'è il rispetto per i fratelli del club. Avete presente quando magari una notte non riuscite a dormire e chiamate un amico, quell'amico che sapete che è sempre lì pronto ad aiutarvi? Ecco, in quel caso tutti i fratelli del club sono così gli uni con gli altri. Purtroppo, e perché non ne faccio più parte, è presto detto. Gli ideali del club erano cambiati e io iniziavo a non sentirmi più parte del gruppo. Per questo lasciai. E purtroppo, molto tempo dopo, il club si ritrova a doversi sciogliere in quanto erano rimasti pochi membri. Ironico che dietro ad un nerd che tira fuori bustine di Dragon Ball Z dalla tasca, ci sia invece un ex motociclista di un club. Nella mia vita ho sempre cercato di provare un po' di tutto e, a scanso di equivoci, mi riferisco ai diversi contesti sociali. Ho frequentato e ho conosciuto persone e donne di diverse classi sociali e con diverse passioni e interessi. Ho sempre cercato di capire cosa spingesse determinate persone a scegliere alcune strade o dei ragioni per cui mantenessero un determinato comportamento in altrettante determinate circostanze. Sì, perché sono anche appassionato di psicologia e del comportamento umano, se così si può dire. A tal riguardo vi consiglio vivamente un libro mattone intitolato L'effetto lucifero di Philip Zimbardo, uno psicologo famoso per il suo esperimento della prigione carcenaria di Stanford. Se siete interessati ne sono stati fatti anche due film, tra cui uno dal titolo The Experiment con Adrian Brody. E vi parlo di tutto questo con un video di sottofondo dove sto giocando con un cabinato. Divertente no? In ogni modo volevo ringraziare tutti gli iscritti parlando di qualcosa di me, un qualcosa che difficilmente avreste potuto scorgere dai video da nerd che faccio. Sul vecchio canale amavo ripetere una frase, come un mantra, e ve la riporto qui. A me non interessa far successo come youtuber o avere fama o seguito. Sì, magari può farmi piacere vedere una community legata dalla passione per ciò che è nerd, vedere molte persone socializzare grazie alla propria passione e i propri interessi. Questo sì, il senso della mia permanenza su YouTube non è spararvi qualche product placement per far soldi o usare gli utenti come fonte di guadagno da spennare. Ma è piuttosto il voler creare una community di appassionati che possono trovare nella tana dei nerd quella vecchia sala giochi dove si parlava di tutto senza pregiudizi o preconcetti. Senza quei centinaia di siti di videogame che parlano bene di giochi di merda e meno bene di giochi che invece andrebbero pubblicizzati ma non fatti da software house famose, perché questo sta succedendo. Per farvi un piccolo esempio, si danno voti alti ad un Conan Exile, che è una merda anche a due anni dalla sua uscita, e si è parlato troppo poco e troppo poco bene di un titolo come Hellblade Senuas Sacrifice, che sì, presenta sempre lo stesso tipo di nemici con un combattimento ripetitivo e con un set di pochissime mosse, ma un'ambientazione, una grafica e una storia da sfondare il buon 80% dei titoloni usciti lo stesso anno. Il senso della tana dei nerd è questo, creare un ritrovo per nerd di ogni genere che parli di questo mondo senza necessariamente dover dirottare l'opinione degli utenti per un proprio guadagno personale. Come fanno ormai quasi tutte le testate videoludiche. Troppi canali youtube e troppi youtuber poco trasparenti, che non parlano di un prodotto, che sia video game o altro, secondo i propri gusti o piaceri, ma che lo fanno solo in vista di introiti monetari per la pubblicità fatta da un prodotto. Tendete da una parte quei due sul server e dall'altra falco nero. Che differenze ci vedete? Da una parte quei due sul server spesso si fanno trasportare nelle loro opinioni sui titoli dal fatto che gli vengano regalate le mega ultra collector edition e in passato si sono anche lamentati di non averle ricevute dopo aver parlato di un videogioco, quasi a rimarcare che avevano fatto pubblicità e non erano stati, fra virgolette, retribuiti. Dall'altra invece c'è falco nero, che ho seguito molto sin dai suoi inizi e le cui opinioni non sono mai state soggette a influenze oscure per un proprio tornaconto personale. Anche se devo ammettere che è un po' triste all'inizio vedere un falco nero che rispondeva ai miei commenti sotto i suoi video e ora invece, forse dovuto alla crescita su youtube o forse peraltro, vedermi ignorato totalmente. Quando all'epoca su facebook abbiamo parlato più volte anche a livello personale e in amicizia, anzi, soprattutto in quello. Quindi il mio intento non è quello di spennare i vostri portafogli come tantissimi altri youtuber o utilizzare questo canale come fonte pubblicitaria per i miei guadagni. È semplicemente quello di creare una sala giochi virtuale, per voi e anche per me, dove poter vedere o parlare di giochi e nerd con gli occhi di chi deve spendere dei propri soldi e valutare un prodotto se meritevole all'acquisto oppure no. Spero che questo possa far piacere a voi almeno quanto faccia piacere a me, perché questa è la passione che voglio mettere in questo canale. E probabilmente per questo resterò povero a vita, ma chi se ne frega. Preferisco di gran lunga tenere la mia dignità che essere comprato da qualcosa o da qualcuno e utilizzare gli altri come fonte di guadagno. Detto questo mi auguro che il video possa piacervi. E sì, vi chiedo di mettere like non perché serva a qualcosa, ma piuttosto per far capire a me se ciò che faccio è gradito oppure no. Quindi lasciate anche un dislike se volete e perché no. Argomentate sotto i miei video cosa vi piace e cosa no, in modo che io possa col tempo migliorare anche grazie a voi. Dalla Tana dei Nerd è tutto, io vi saluto, ciao ragazzi e buon gioco.